che riguarda la manutenzione della Transpolisano strada 434, rimane però poi un fantasma che rischia di alleggiare intorno a questa discussione, che è quello relativo alla Nogara Mare. Questo è un progetto che pertiene però soprattutto in questa fase ovviamente alla Regione. Io porto l'attenzione comunque anche del Governo il fatto che gli enti locali ormai da troppo tempo aspettano una risposta su questo tema, è un impegno in questa fase specialmente della Regione che pare latitare, quindi anche in questa occasione mi faccio l'attore presso il Governo di ricordare che rimane aperta questa questione. Per quanto riguarda invece la risposta più minuta e puntuale che riguarda per l'appunto la manutenzione, credo che siamo di fronte a impegni concreti e non mancheremo anche di monitorare e sottolineare quelli che saranno evidentemente passaggi successivi. E ringrazio ancora il Governo. A questo punto abbiamo esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo la seduta e riprenderà alle ore 12 con in seguito della discussione della proposta di legge recante modifiche delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.